buonasera ben arrivati siamo qui all'hotel chiasa soleil di la villa in alta badia dolomiti ecco noi siamo ancora aperti fino a fine mese fino a 27 settembre con queste giornate splendide vi aspettiamo per farvi vivere delle belle giornate in montagna facciamo anche le gitte e poi inizieremo per la stagione invernale 4 di dicembre per sant'ambrogio e aspettiamo